L'innovazione svolge un ruolo trainante per l'economia. Quanto innovano le cooperative e come? Il sistema delle cooperative è pienamente coinvolto nei processi innovativi e di digitalizzazione, seppure con caratteristiche particolari. Nello specifico noi abbiamo fatto dell'analisi integrando dei dati sia sui risultati economici, sulla struttura delle cooperative e con i risultati delle rilevazioni istat su innovazione e digitalizzazione. Emerge un profilo innovativo mediamente più basso rispetto a quello delle imprese di mercato ma con interessanti convergenze per quanto riguarda l'innovazione organizzativa che è molto importante e l'innovazione di marketing soprattutto in cui le cooperative sono sostanzialmente allineate alle imprese. Sulla digitalizzazione invece abbiamo una situazione più critica nel senso che effettivamente il profilo digitale medio delle cooperative italiane al netto degli effetti legati al settore è significativamente più basso rispetto a quello delle imprese.